Potente appara ragazzi, qua Axel, oggi mi cazzo, sono da solo e sono qui a presentarvi su un nuovo video E ragazzi dovete essere sinceri, questo video non ve lo aspettavate Beh ragazzi, no scusate se ho ridetto ragazzi, però beh in poche parole non me lo aspettavo neanch'io Perché ho fatto appunto questo video? Perché ragazzi oggi è successa una magicata Qual è questa magicata? Ho preso il mio primo sette nei temi in tutta la mia carriera da liceo scientificista Liceo scientificista credo si dica così Non lo so, comunque sono veramente carico, infatti qual era il mio tallone da kill in questo liceo? Erano appunto i temi ragazzi, io nei temi facevo altamente defecare i maiali e oggi ho preso il mio primo sette E quindi ho detto ma si deve festeggiare, quindi cosa possiamo fare? Facciamo questo video appunto per i miei iscritti così da condividere la nostra felicità E infatti oggi sono qui a presentarvi un squad builder veramente magico perché è un'ibridozza Questa ibridozza ragazzi ti tengo a dire che non l'ho inventata completamente io Ma mi hanno linkato qualcosa i miei amici, poi ho visto su alcuni gruppi di FIFA E ho appunto preso delle idee e poi è uscita questa squadra Questa squadra sarà costituita da 4 giocatori in forma Il primo è Diego Alves, il secondo è Riccardo Cacà Il terzo è Ulce If, Ulce si, Pulce il mio gatto Ulce If e il quarto è Ezekiel If Quindi da questi nomi potete immaginare la potenza di questa squadra Poi ragazzi c'è da dire una piccola cosa Il prezzo, questo prezzo, la squadra costerà A pala, costerà sui c'è 800.000 E un milione di crediti Io non ho ancora fatto i conti quindi non so quanto l'ho pagata Però mi sembra sì attorno agli 800.000 ecco Prima di iniziare ragazzi vi volevo dire di bastare da FIFA come stessi Se siete interessati a prendere il video di FIFA E speriamo di farvi uscire questo video entro mezz'ora Anche se dubito alla grande che questo video Esca dentro mezz'ora però Banda di Sancho Andiamo partiamo subito Allora in parto utilizzo un portiere in forma ragazzi Che mi ha stupito alla grande Qual è questo portiere? Questo portiere è Diego Alves Che ho pagato 67.000 Con la chemistra e il guanto E ragazzi lui mi è piaciuto assai Io avevo provato la sua versione non if E non è che mi era piaciuta così tanto Agli inizi sì, poi andando avanti no, poi sì, poi no E invece questa sua carta è partita veramente bene È partita in un modo tattico se possiamo così chiamarlo Quindi ragazzi ve lo consiglio alla grande Ovviamente se avete i crediti Per comprarlo Ecco una cosa abbastanza tatticosa Un altro difensore centrale Utilizzo Miranda Miranda Ragazzi vabbè Miranda ormai lo conoscete È presente in quasi tutti i miei squad builder In cui è presente la Liga BBVA 9 partite 0 gol per un assist Però un assist E io lo reputo veramente forte ragazzi Compratelo Costa all'incirca sui 2000 crediti Ma ne vale anche 5000 Poi altri difensori centrali Allora ragazzi Un altro difensore centrale È un difensore centrale che non avevo mai utilizzato prima E devo dire che mi è piaciuto assai Mi ricorda quasi il David Luiz Di FIFA 12 Infatti di chi sto parlando Sto parlando di Juan Jesus Giocatori della magica Inter 79 Non sono interista 79 di velocità 79 di difesa 80 di testa Con la camisita di Sentinella Che gli aggiunge 3 difesa E 2 al colpo di testa Mi è piaciuto Mi è piaciuto Alla grandissima Perché? Perché ragazzi Costa solo 1000 Ve lo consiglio a tutti Provatelo Provatelo E provatelo ancora Altro difensore centrale È un argento Ebbene sì ragazzi Ho iniziato ad utilizzare anche Sempre più l'argento In questo gioco Infatti questa squadra Non so Se appunto conoscete Il giocatore che ho detto prima Sarà costituita da Giocatori oro Argento Sarà un Ora Argentenji Una squadra abbastanza tattica E appunto Devo dire che mi stanno piacendo L'argento su questo gioco Quindi li continuerò ad usare O meglio Li inizierò ad usare sempre di più Quindi Quale è questo difensore centrale? Questo difensore centrale è Canu ragazzi Pagato 2800 Quindi un bel po' Ma questo perché? Perché l'ho preso con la Kevin Style integrata Se possiamo così dire E quale è questa Kevin Style? È spina dorsale Spina dorsale Che come ho detto prima Non so se l'ho detto Aumenta di due passaggio Di due la difesa E di uno il colpo di testa Ragazzi Canu mi è piaciuto Veramente tanto Perché trovare un difensore centrale Argento 72 Che abbia 72 velocità 74 difese 76 di colpo di testa È veramente difficile Ve lo consiglio Ve lo consiglio Poi Altro scendolo Capista difensore Sto un po' sdrogheggiando Ragazzi Inizio ad essere tardi Perché sto sdrogheggiando Perché io oggi Ho fatto 8 ore a scuola Sì ragazzi io il venerdì faccio 8 ore a scuola Si torna morti proprio Comunque altro cdc Utilizzo No il primo cdc Il primo dei due cdc È Marchinho Ragazzi Perché ho utilizzato Marchinho Allora mi servirà Per dare doppia intesa A due giocatori Sì Che appunto sarà Al altro cdc E al coc Perché ho utilizzato lui Perché appunto mi serviva Un centrocampista difensivo centrale Brasileano da utilizzare Se volete potete utilizzare Anche quello della Lazio Adesso non ricordo il nome Però io ho preferito lui Perché l'avevo già provato Per una partita Però devo dire che Mi garba Altro difensore centrale Qual è? L'altro difensore centrale È il magico Hernanes Ragazzi Io ve lo continuerò a dire Ve lo continuo Ve lo continuerò a dire Provatelo Perché lui è veramente forte 73 velocità 83 tiro 83 passaggio 80 di wings 80 di difesa 80 di gruppo di testa Dalle statistiche Non sembra un buon cdc Ma ve lo assicuro È forte veramente in tutto È un giocatore completerrimo Passiamo al coc Coc Utilizzo l'ultimo giocatore Della serie A Che infatti si si Sta parlando di Riccardo dosantos No ho sbagliato Riccardo Pensavo di ricordarmi no? Kakà ragazzi Mi è piaciuto un sacco Come vi ho detto L'ho pagato 40.000 crediti In meno dell'altro Perché io sono furbo Ho detto Ma dobbiamo venderlo L'altro sono quasi sicuro Che il suo prezzo si abbasserà E così è stato Ragazzi Kakà mi piace È fortissimo Lui ve lo consiglio Alla stragrande Provatelo La sua versione non è if Mi era piaciuta Sì Discretamente Ma la sua versione if Ragazzi È fortissima Due partite Due assist E un gol Provatelo Non so se sia la che mi esistai La che mi esistai In questo caso è calzatore Sì Calzatore Catalizzatore Che aumenta di 3 La velocità di 82 Il passaggio Ma provatelo Perché è veramente forte Esterno sinistra Allora da una parte Utilizzo Ecco ci tengo a dire Che gli esterni sinistri Mi serviranno per dare Doppia intesa Agli attaccanti Comunque da una parte Utilizzo Dos Santos Ragazzi Lui è stato una rivelazione L'ho pagato solo 1200 E in due partite Mi ha fatto due gol Devo dire che è veramente forte Con che Che camistare Gli ho messo L'ho messo La camistare Il predatore Che cosa mette il predatore Il tiro e il passaggio Ma ragazzi C'è da dire Che di questo giocatore Questo giocatore è anche forte Perché ha 4 stelle di piede debole Quindi è veramente forte Cioè 4 stelle di piede debole Significa che sa usare Anche l'altro piede Molto bene Se vedete Il suo piede preferito È il sinistro Quindi lui cosa riesce a fare Riesce a mettere De cross popo a pennello Ma riesce anche a tirare Sia di sinistro Che di destro Appunto perché ha 4 stelle Di piede debole E l'altro esterno Quello destro Che utilizzo Utilizzo Ha un nome abbastanza tattico Come si chiama Aspetta Non me lo ricordo Devo vederlo ragazzi Perché ha un nome tattico Però non me lo ricordo Carsela Gonzales Madonna quanto becca 84 71 di tiro 69 di passaggio 42 di difesa 48 di colpo di testa Ragazzi Anche lui mi è piaciuto Infatti Come ho già detto Gli argenti In questo gioco Si stanno rivelando Una rivelazione tattica Ve lo consiglio Anche lui L'ho pagato 2300 Con la camicia di stelle motore 3 stelle di piede debole Ma 4 stelle di massabilità Cioè Questa squadra è anche Util È anche fatta Per quei giocatori Che vogliono Schillare alla grande Ma passiamo ai due No Ho sbagliato Ma passiamo ai due gioielli Di questa squadra Che sono Allora Il primo ragazzi No Sì vabbè Il primo è Ezechiel Ragazzi Mettiamo la destra Così che mi dia doppia Intesa con Carsela Gonzales Ezechiel ragazzi 92 di velocità 71 di tiro 63 di passaggio 72 di bling 52 di difesa 75 di testa Quanto costa Allora Il suo prezzo Non lo so Perché appunto Me l'han passato I gentilissimi signori Di FIFA Come stage Però Mi sembra che costi Anche lui Alla grande Non so se Dai 100 ai 300 mila Se non mi sbaglio Mi hai piaciuto Mi hai piaciuto Sì ma sinceramente Mi aspettavo un po' di più Infatti Se volete La sua Se appunto Volete copiare Imitare Questa squadra Vi consiglio Di prendere E appunto Non avete i soldi necessari Oppure Ce li avete proprio Al pelo All'upilu Vi consiglio di prendere La sua versione non if Non è che non valga Questa versione if Ma il suo prezzo Diciamo è Esagerato Ma passiamo all'altro attaccante Ragazzi L'altro attaccante È veramente magico Io Mi ispira questo giocatore Veramente Mi ispirava Prima Poi sul 12 Se non mi sbaglio Adesso non trovo La liga BBVA Mannaggia La salsiccia Dove sei Su FIFA 12 Avevano fatto Una sua versione In forma Che era una bestia Qual è questo giocatore Questo giocatore È Uce Uce In forma Che è L'ho pagato 608 mila crediti Una cosa abbastanza amica Di questo giocatore È che oggi pomeriggio Il suo prezzo S'agirà sui 500 mila crediti Poi ovviamente Io ho detto Ma il suo prezzo Sta abbassando Aspettiamo una sera Per comprarlo È arrivata la sera E si è alzato di 100 mila Quindi io non so Però mi sa che ci avrò Sminato 608 mila crediti Ragazzi Questa qua era la squadra Magari adesso vi faccio vedere Un paio di gol Ma colgo l'occasione Per dirvi che Questo video Appunto Non annullerà Il video di domani Quindi ragazzi Aspettatevi domani Anche un altro video Quale video vi dovete aspettare Il pink pale Di Kaka e Bonucci If Che magari faccio anche adesso Comunque bisogna vedere Ovviamente Io dico adesso Ma Credo che non sia ancora L'adesso In cui io l'abbia già fatto Una cosa abbastanza attica Comunque Quando uscirà questo video Io credo di non averlo ancora fatto Il pink pale Quindi per avere Tutte le informazioni Su appunto Quando farò il pink pale Seguitemi sulla pagina Facebook Oppure anche su Twitter Quindi ragazzi Spero che innanzitutto Questa squadra vi sia piaciuta Vi consiglio appunto Di provarla Fatemi sapere Se qualcuno la proverà E vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Un bel commento Magari arriviamo anche I mille mi piace Proprio così E quindi detto No non ho la facecam Perché ho fatto un bel gesto Sulla facecam Però la facecam è spenta È una cosa abbastanza tattica Comunque Detto questo Io vi saluto E vi dico potente A pala e sento A prossimo video Bolla